a tutti i nostri buoni genniche un culo pieno di saluti da parte nostra ai suoi genitori vedasi pagina 3 riga 12 ora non sono l'altro di nuovo se non che una vacca vecchia ha caccato una merda fresca e conciò adieu Anna Maria se la traglia nata chi avaglia mi stia bene e mi voglia bene mi scriva presto perché fa fresco mantenga quanto detto altrimenti legge adieu mon dieu la bacio delle volte sono di botto di pozzo mannheim catarro of mine il 3 di dicembre oggi non è in quatembre 1777 in tempo notturno da ora è in tempo ma è mai stata a berlandia sua cugina strutta per tutti che il tempo si è avendo e si è avvisso silenzio cacare e cos'è grazie 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 a tutti